Dopo Trump, questo lunedì, Bruxelles del benvenuto al Presidente degli Stati Uniti per il vertice Nato Joe Biden dovrebbe rassicurare il vecchio continente con un messaggio chiave. L'Europa è un alleato e la Nato un elemento vitale della sicurezza occidentale, anche se restano temi difficili. L'ambasciatore USA in carica, Douglas Jones, ha confermato a Euronews che i giorni in cui Trump ha definito la Nato obsoleta appartengono al passato. In un mondo in cui vediamo spesso crescenti minacce e regimi autocratici in aumento, è tanto più importante impegnarsi e rafforzare la Nato come luogo in cui le democrazie possono riunirsi e dimostrare che possono agire insieme, aiutare il proprio popolo e proteggersi a vicenda. Tuttavia la gamma di sfide include la crescente attenzione alla sicurezza di Washington sulla Cina, che non è condivisa da molti alleati. Il ministro della difesa francese è apparso scettico sul fatto che l'Europa possa davvero condividere il livello di preoccupazione degli Stati Uniti per la Cina. Parigi sta ancora spingendo per una maggiore autonomia strategica europea in materia di difesa. Non siamo d'accordo su tutto, ma siamo d'accordo su molto e sulla Cina è importante riconoscere che non era nemmeno nell'agenda della Nato diversi anni fa. Ora gli alleati, attraverso le consultazioni e il dialogo, hanno un consenso sul fatto che nella Nato bisogna parlare di Cina, bisogna affrontare le sfide che ci pone la Cina, nello spazio di sicurezza transatlantico, dove Pechino è sempre più presente. Se la Cina è vista dall'amministrazione statunitense come la nuova minaccia, le vecchie rimangono. Biden ha iniziato il suo viaggio in Europa con un avvertimento alla Russia. La Russia rimane per la Nato la minaccia più immediata. Gli Stati Uniti sono stati chiari sul fatto che non esiteranno a rispondere con fermezza alle azioni destabilizzanti della Russia, anche se cerchiamo stabilità e prevedibilità nelle relazioni. Mercoledì Biden incontrerà per la prima volta il presidente russo Vladimir Putin e dovrebbe ripetere l'impegno degli Stati Uniti con l'articolo 5, ovvero la clausola di mutua difesa tra i membri della Nato.